Musica Dalla scoperta del tumore al seno, la fase dei controlli dopo la terapia. Un centro di senologia multidisciplinare nota come breast unit, questo chiedono le donne di Sassari e provincia operate al seno. In mattinata si è svolta l'assemblea pubblica in una sala gremita dell'hotel Vittorio Emanuele, dove sono stati chiamati a partecipare i vertici regionali del settore sanità e della politica. Un confronto serrato tra le donne presenti e l'assessore della sanità Arru, che ha chiarito che l'istituzione della rete ospedaliera regionale è il passaggio fondamentale per l'istituzione delle tre breast unit previste a Cagliari, Nuoro e Sassari. La delibera della rete ospedaliera però è di fatto stata approvata già un anno fa, ma si trova ferma in consiglio regionale, dove, ha spiegato il presidente Gianfranco Ganau, e ancora in discussione sarà approvata definitivamente resa esecutiva prima dell'estate. Il confronto è stato moderato dai due referenti, dalle donne organizzatrici dell'assemblea. L'impegno che si sono presi per noi va bene, nel senso che se adesso si inizia un percorso e questo percorso sarà fatto nella giusta maniera, noi pensiamo che la breast unit si potrà avere a breve. Loro hanno già attivato questo percorso, ci auguriamo che sia un percorso breve, nel senso che venga attuato a breve. Il direttore dell'azienda ospedaliera universitaria Antonio D'Urso ha specificato che la breast unit a Sassari non è in discussione e sarà una realtà. Ma è una realtà, e non è vero che non è una realtà, è una realtà, ci stiamo lavorando sotto il profilo dell'organizzazione, per accompagnare le donne in questo difficile percorso in cui più professionisti lavorano insieme proprio per garantire il percorso. Il termine breast è un termine che passa dalla programmazione regionale, dalla riorganizzazione della rete ospedaliera a tuttora ferma in Commissione Sanità. Ho chiamato le donne a coprogettare con noi i servizi proprio per questa linea di presa in carico. Nel corso dell'incontro sono emerse anche tante situazioni di forte criticità in cui versano diverse strutture di terapia oncologica a Sassari. È ignobile perché fare la chemioterapia con il braccio appoggiato su un bidone di spazzatura è davvero allucinante. Scoperto dagli uomini dell'ufficio Dogana dello scalo aeroportuale di Alghero un traffico di falso Viagra, le famose pastigliette blu utilizzate per migliorare le prestazioni sessuali. L'ingente sequestro di farmaci privi delle autorizzazioni sanitarie previste in territorio italiano è stato messo a segno all'aeroporto Riviera del Corallo di Alghero dagli uomini del servizio operativo territoriale dell'ufficio delle dogane di Sassari e dai carabinieri del NAS. L'operazione congiunta scaturita da normali controlli finalizzati alla repressione di traffici illegiti ha permesso di rintracciare e sequestrare 766 confezioni di compresse. Le scatole di falso Viagra sono state ritrovate nei bagagli di due uomini, uno italiano e uno cubano che arrivavano appunto da Cuba, dopo aver fatto scalo all'aeroporto di Roma a Fiumicino. I due sono stati denunciati a piede libero per violazione delle leggi sull'autorizzazione all'importazione di medicinali. Anche per la sanità sassarese il prossimo 9 marzo sarà la giornata mondiale del Rene. Manifestazione promossa dalla Società Internazionale di Nefrologia, dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fondazione Italia del Rene, con l'intento di promuovere la conoscenza e sensibilizzare la popolazione sul tema delle malattie renali. L'obiettivo principale è quello di aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica nei confronti delle malattie, che sono spesso subdole e senza sintomi evidenti, diffuse e pericolose, perché possono evolversi senza cause apparenti, fino a portare all'insufficienza renale cronica terminale. Le malattie renali colpiscono parecchi milioni di persone in tutto il mondo. La diagnosi precoce e uno stile di vita sano sono indispensabili per evitare l'affermarsi e il cronicizzarsi della malattia renale. Una serie di categorie di pazienti sono maggiormente esposte, in particolare le persone affette dal diabete mellito, ipertensione arteriosa ed obesità, sono tra quelle più a rischio di sviluppare una malattia renale. Il fatto che spesso questi pazienti non siano consapevoli del rischio conferma l'utilità della diffusione di conoscenze promossa dalla giornata mondiale. In Italia ci sono 15 milioni di ipertesi, 5 milioni di diabetici, 10 milioni di obesi, tutti categoria, da cui proviene la maggior parte dei dializzati, che nel paese sono 50.000. Sassari partecipa alla campagna di sensibilizzazione che quest'anno ha lo slogan Malattie mentali e obesità, un sano stile di vita per dei reni in buona salute. L'evento, che si terrà in Piazza d'Italia con stand informativi e unità mobili diagnostiche, è organizzato dalla struttura complessa di nefrologia, dialisi e trappianto dell'ospedale Santissima Annunziata. Dalle 9 alle 18, il personale medico e infermieristico coordinato da Maria Cossu sarà a disposizione dei cittadini. Nuovo incontro ieri sera promosso dal Panathlon Sassari con i protagonisti dello sport cittadino e regionale. Paolo Poddiga, presidente del Comitato Sardo Paralimpico, ma anche vicepresidente nazionale della FITARCO, ha raccontato la sua esperienza personale agli appuntamenti olimpici, iniziati nel 2002 ad Atene. Non solo tiro con l'arco per Poddiga, ho iniziato a fare sport da bambino, 16 anni di judo, indimenticabili, e poi il trofeo Sieni. Da ultimo si è aggiunto l'impegno con gli sport paralimpici. Il CIP è recentemente diventato ente pubblico, con la Sardegna che ha anticipato tutte le altre regioni. Lucio Masia, delegato provinciale del CONI, ha ricordato invece l'importanza del Comitato Olimpico, che ha il compito di regolare e promuovere le attività sportive. Hanno partecipato alla serata due presidenti del Panathlon degli anni passati, Maria Paola Pasella e Giannicola Montalbano, che ha inoltre guidato il CONI del Nord Sardegna prima della riforma Petrucci. E inoltre è intervenuto il vice sindaco Gianni Carbini, che ha portato i saluti dell'amministrazione comunale. L'incontro cade a quasi 12 mesi dalla ricostituzione del Panathlon Club Sassari, dopo alcuni anni di pausa. Un passaggio ricordato dal presidente Marcello Sassu, Panathlon è una parola composta dai termini greci Pan, tutto, e Athlon, sport. Lo scopo dell'associazione è l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quali strumenti di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli. Il Panathlon, fondato a Venezia nel 1951, dall'82 è riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale. Voglio scoprire l'America, l'Italia Swing di Fred Buscaglione. Questo è il titolo dello spettacolo dell'associazione 26, organizzato in collaborazione con la Volpe L'Uwe e l'associazione Parabac, che verrà messo in scena giovedì 9 e venerdì 10 marzo alle 21 a Palazzo di Città Sassari. Uno spettacolo fresco e dal ritmo avvincente, che racconta la storia dell'Italia del boom economico attraverso gli occhi, la vita e l'ascesa discografica del grande Fred Buscaglione. Una ricostruzione appassionata della vita e della carriera di un artista che ha fatto la storia del jazz e dello swing in Italia. Buscaglione regala uno spicchio di America immaginaria con un mondo fatto di bulli e bionde platinate, un universo noir raccontato con irresistibile ironia e piglio da cabaretista. Sul palcoscenico la Parabà Orchestra, composta da otto musicisti professionisti, è la voce solista di Mauro Areeso nei panni di Fred Buscaglione. Rachele Falchi racconterà i mutamenti e le trasformazioni sociali e politiche di un'Italia a partire dagli anni 30 e fino alla fine degli anni 50. Un'Italia che comincia a guardare sempre più l'America attraverso gli occhi e la musica di Fred Buscaglione. Parte del ricavato sarà devoluto alla cooperativa salesiana Il Sogno di San Giorgio a Sassari. Si svolgerà tra poco più di un mese a Tempio, in collaborazione con l'Automobile Club di Sassari, la quarta edizione del Corso Navigatori e Piloti Alberto Ganau, che si terrà presso le strutture dell'Hotel Pausania Inn, il 17, 18 e 19 marzo prossimi. Un appuntamento a livello internazionale per il quale la LRT Sardinia sta lavorando agli ultimi dettagli prima di poter accogliere i ben 80 iscritti, di cui 35 prime licenze. Anche quest'anno il responsabile del Corso Navigatori e Piloti Alberto Ganau sarà Carlo Cassina. Venerdì pomeriggio si affronteranno le lezioni dedicate ai ragazzi, che conseguiranno la prima licenza e sosterranno l'esame finale a domenica. Mentre per tutti coloro che sono già in possesso della licenza, i corsi inizieranno il venerdì sera e si articoleranno nelle giornate di sabato e domenica. Numerosi gli interventi previsti, tra questi quello del giornalista e d'autospriente Sky e della Nuova Sardinia per l'URC Marco Giordo, che illustrerà il rapporto tra concorrenti e media. Grande novità di quest'anno sarà la presenza di un corso nel corso, in quanto la domenica mattina si svolgerà la lezione sulla sicurezza e l'equipaggio e del Fire Safety, con importanti figure tecniche della penisola, che darà l'opportunità alla società Sarda S Antincendio di abilitare nuovi addetti alla decarcerazione, in grado di consentire un rapido e sicuro intervento del personale medico e paramedico sui feriti. Relazioni sono previste su argomenti come la medicina sportiva. Come ogni anno, non mancheranno le sorprese. Il sabato sera ci saranno svariati interventi nei quali si anticiperanno alcune curiosità sulle gare isolane, a partire dalla Rassi Nebi Racing per il Rally del Vermentino, che da quest'anno sarà su terra, per concludere con gli amici della Porto Cervo Racing. A fine corso verrà svolto un esame per tutti i partecipanti, in modo da stilare una classifica conclusiva e assegnare i tanti premi messi in palio. Cittadella sportiva è sempre più degradata. Ciò che sino a qualche anno fa era un fiore all'occhiello di Porto Torres, ora si presenta con evidenti sintomi di decadenza, frutto di pochissimi investimenti e scarsa manutenzione straordinaria. Recinzioni fatiscenti e strutture deteriorate sono il biglietto da visita per gli spettatori e gli sportivi. Il Porto Torres Calcio è costretto a giocare in un terreno che assomiglia più a un campo di patate che ad un dignitoso campo di gioco. Se ne lamenta il vicepresidente Antonio Scaramella. Abbiamo solicitato più di una volta l'amministrazione per fare dei lavori, i lavori da fare sono rifare completamente il manto erboso, però fino adesso siamo così, siamo ancora che giochiamo in questo campo. Chiaramente rifare un manto erboso è una cosa molto onerosa, abbiamo bisogno dell'aiuto dell'amministrazione. E fino adesso purtroppo devo notare che questa mano non ce l'ha mai data. Pongono l'accento sulla sicurezza anche il responsabile della scuola calcio Porto Torres, Orazio Prato, e l'allenatore della Juniores, Antonello Cabitta. Ho la tutela soprattutto dei bambini affinché crescano bene e sani, quindi li facciamo allenare in questo campo con le difficoltà che voi vedete. Una delle difficoltà di lavorare e di allenare in questo campo è anche legata strettamente a quelli che sono gli infortuni dei ragazzi. Noi purtroppo, io ho la responsabilità della Juniores da un punto di vista tecnico, ma mi ritrovo a dover considerare molti infortuni che stanno diventando anche una responsabilità sociale per quanto riguarda la società, che riguardano sia la Juniores e tanto quanto la prima squadra.